Musica Che dite vogliamo fare questo spot insieme? È così giovane, è così ragionevole Musica 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 Iaci 84 batti Che vuol dire? La super fotocamera La funzione beautification Quella che ti serve per sistemarti tutti i selfie Senza esagerare ovviamente Tadam Sembriale Fanman Insomma un progetto importante Adatto alla nostra figura di Webstar Si può dire che in un certo senso siamo state nominate Ambasciatrici della cinesità in Italia Chiaranassi 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 chiara anche di qua, di una foto. Stolchero su Instagram che era nasti a un piscinoporti a Miami e ha appena aperto una noce di cocco così lute di marmo. Che sfigata. Comunque non è che siamo rimaste con le mani in mano eh, abbiamo portato avanti un sacco di progetti da grandissimo successo. E poi finalmente è arrivata la nostra grande occasione. Una sponsor. Meizu, un cellulare cinese. E poi uno dice sì vabbè cinese. E invece no, è di quelli super fighetti, con tutte quelle applicazioni tecnologiche un po' mattacchione e tipo i tre livelli di protezione, quel cosino per rilevare i battiti cardiaci. 84. Grazie. Chiara, Chiara, anche di qua, una foto. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Non ci credo, non ci credo, non ci credo che hanno preso quel manichino senza cervello come testimonia, guarda. Complimentale di no. Ma ti pare che noi ci dobbiamo ridurre a lavorare con l'ennesima fregnetta senza arte parte. Non mi arriva il zongo, il cervello. Pazzesco. Noia. Buena, Chiara. Anch'io avevo un sogno ed ho fatto di tutto per realizzarlo, trovando la strada perfetta per me, non facendo il male a nessuno. Io mi impegno, mica come voi che continuate a fare selfie in sottana con un bicchiere di vino per far rosicare il vostro ex. Che poi rimane fra di noi, no? Lo stai registrando, vero? Lo sapevamo che saremo tornate. Tutte quelle visualizzazioni, quei like, l'internet non poteva dimenticare. perfetta. Senti, dimmi se va bene come status. Capodanno alternativo del buon vino e dell'ottimo jazz. Si capisce che è rosicchi perché Lorenzo ti ha mollata e non hai più amici perché erano i suoi amici. E se aggiungo hashtag mori gran pezzo di merda? È ambiguo, mi piace. Perfetto. Tu che fai? Stolcherò su Instagram che era nastro.